Ciao dottore dei computer, nel giardino della casa bianca stavo costruendo una diga e mi è venuto in mente di farti una domanda. Ciao Obama, dimmi pure. Ho una chiave USB che voglio proteggere con password. Non voglio che un giorno la Merkel mi prenda la chiavetta e guardi il contenuto. Ma perché? Cosa c'è di così importante? Ho alcune mail molto condifenziali dove scrivo all'ambasciatore della Patagonia che preferisco di gran lunga gli spaghetti rispetto ai wurstel. E ti confido. Mi piace anche la pizza e il mandolino. E leggo ogni giorno il tuo sito www.ildottoredeicomputer.com. Grande Obama. Non sapevo fossi un fans dell'Italia. Per proteggere una chiavetta USB in modo che il contenuto sia visualizzabile solo per chi ha la password, ti consiglio il programma TrueCrypt. Grazie dottore, ma è pagamento questo programma? Come funziona? Potrai criptografare la chiave USB con una password da te scelta, il contenuto della chiave sarà poi visualizzabile solo da chi ha questa password. Ed è completamente gratuito. lo puoi scaricare nel link riportato sotto questo articolo. Grazie mille dottore. Ora potrò scrivere tutto quello che penso sui capi di Stato senza che lo vengano a sapere. Grazie. Per maggiori dettagli e informazioni, ti consiglio di visitare www.ildottoredeicomputer.com. Un saluto a chi ci sta guardando con il computer o cellulare. Ciao. Grazie. 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 Grazie.